La Puglia intera si è interrogata dopo le rivelazioni del pentito schiavone, il fratello di Sandocan, secondo il quale molti dei rifiuti illeciti, tossici, che dovevano essere smaltiti venivano smaltiti qui in Puglia. Nella discarica di Conversano in Contrada Martucci sarebbero stati interrati negli anni fanghi industriali speciali campani o transitati dalla Campania. Ci sono le prove concrete. Del fatto che certi rifiuti arrivavano, la discarica Martucci di Conversano. Sì, concrete, reali. Sta là il rifiuto, a breve probabilmente si saprà qualcosa di più sicuro, però sta lì. Questo io lo metto per descritto a chiunque. A denunciarlo è Domenico Lestingi, per 25 anni dipendente della Lombardi Ecologia, licenziato a maggio del 2012 dopo l'ennesimo gesto plateale fatto per dimostrare presunte irregolarità commesse nella discarica. Alcuni giorni fa ho denunciato, ho avuto un colloquio con il sindaco, il dottor Emiliano di Bari, gli ho detto le cose che io sapevo e mi ha praticamente consigliato di fare una denuncia. Che lei ha fatto? Il 10 di novembre, qualche giorno fa, al comando di Caravini di Conversano. Secondo alcune indiscrezioni, molti di quei rifiuti potrebbero essere i fanghi di industrie calzaturiere con cerie toscane. Alcuni rifiuti che per me sembrava forse normale che dovessero venire, adesso scoprono che non era affatto così. Praticamente dopo la disaggregazione dei segreti di Schiavone siamo riusciti a collegare qualcosa. Non sappiamo con certezza se sono campani o se venivano dalla campagna, però sono fanghi industriali speciali e pneumatici che non dovevano venire lì. E soprattutto che dovevano essere sbantiti diversamente. Esatto, esatto. Non potevano stare lì. Questo è il punto. Una prima conferma sulla pista toscana arriva da alcune recenti dichiarazioni del prefetto di Firenze. Secondo Varratta, infatti, alcune aziende della provincia di Empoli potrebbero essere coinvolte in un traffico di rifiuti diretti a sud. Il periodo combacia, combacia con la campagna, combacia... Ci sono molti punti che combaciano. Adesso la magistratura sta indagando, la denuncia sta lì. Diciamo che tutto fa pensare che così è.